Ciao, sono la dottoressa Serena ed oggi voglio darti un semplice consiglio per stare meglio. Bevi. L'acqua è la migliore alleata della nostra salute ed anche del nostro dimagrimento e deve costituire circa il 70% del nostro peso corporeo. Altrimenti possiamo avere mal di testa, sentirci stanchi, avere problemi di acidità o di gonfiore, nonché gambe pesanti ed anche una pelle molto secca. Cominciamo con il bere due litri di acqua al giorno, una bottiglia da litro dal nostro risveglio fino all'ora di pranzo e questa bottiglia la potremo anche suddividere in due bottiglie piccole da mezzo litro che tranquillamente ci possiamo portare dietro con noi. Continuiamo poi con un'altra bottiglia da mezzo litro dall'ora di pranzo fino all'ora 18 per terminare con un'ultima bottiglia da mezzo litro fino all'ora di cena. In questo modo, non volendo, avremo bevuto due litri di acqua nell'arco della nostra giornata. Per esaltare le proprietà dell'acqua potremo aggiungere a bottiglia due cucchiai di questo prodotto denominato erba tulsi ed in questo modo prepareremo una tisana che, ancor meglio se bevuta fredda, tenderà ad avere proprietà depurative, nonché manterrà la nostra pelle sana e ridurrà l'acidità ed il gonfiore, facendoci così sentire più leggeri. Ricorda che qui in farmacia utilizziamo una strumentazione medicale certificata proprio per quantificare quanta acqua è presente nel tuo organismo nonché il quantitativo di acqua di cui il tuo organismo ha bisogno nell'arco delle 24 ore. Spero che questo video sia stato di tuo aiuto e per ogni ulteriore dubbio scrivimi o vieni in farmacia a trovarmi. Grazie